Ciao ragazze e bentornati su trucchi.tv Allora oggi sarà un nuovo video Mezzo natalizio Avete già capito dal titolo Però prima di farlo ci tenevo a fare qualche premessa E innanzitutto mi vedete Sempre vestita uguale Perché vedrete In un prossimo video che ho appena registrato Solitamente non registro mai più di un video In un giorno Perché non mi piace E comunque mi vedrete così Con questo sempre stesso trucco basico Perché ho appena registrato un video Sul mascara di Clio Makeup Che vedrete prossimamente Che mi avete chiesto davvero in tantissime Soprattutto sul gruppo privato di trucchi.tv Che io vi ricordo esiste Siamo solo trucchine, trucchine, trucchini Anche anche per i trucchini E' un gruppo a cui tengo tantissimo E siamo molto affiatate Mi piace molto Se vi fa piacere Non c'è zizzagna, non c'è arroganza Non è una setta E' un gruppo di appassionata Di persone normali E ecco ci tengo a precisare Che non è una setta Perché molti gruppi Sembrano essere una setta E io proprio veramente Cioè rimango allibita Gruppi privati intendo Comunque Comunque Oggi voglio parlare E farvi vedere i miei regali di Natale Ma prima di iniziare a farveli vedere Ci teniamo a fare una premessa Perché Perché lo faccio così tardi E lo registro così tardi Questo video Perché Ero molto attitubante Su farlo e non farlo Infatti vi chiedo subito Se a voi interessa Questo genere di video Farvi vedere un po' Quello che ho ricevuto Che può essere un video Veramente come tanti altri Videovole E quant'altro Però Io mi sono sempre fatta Magari dei problemi Che Ditemi voi Se esistono Non esistono Perché Io infatti l'anno scorso E anche due anni fa Non l'ho fatto L'ho fatto una volta sola E poi da lì Poi mi è scattata Sta cosa di pensarci Perché mi sembra Un po' la gara Soprattutto qui sul tubo A chi ha ricevuto di più Chi ha ricevuto di meno È un po' Un po' Un po' Troppo esibizionistico È vero che YouTube È un po' esibizione Io c'ho Io c'ho Però Come avrete notato Qui sul canale Evito di fare Tanti video haul Magari può capitare Però non tanti Cioè mi scoccia Anche Mi sembra un Io c'ho di più E tu no E soprattutto Natale Mi facevo tanti scrupoli Soprattutto perché È un periodo In cui si è Notoriamente più sensibili Al di là che Questo Natale Per noi È stato molto particolare E qualche trucchino Lo sa È inutile stare qui A disquisirne ancora Però In Natale Al di là Di questo Di quest'anno È sempre un periodo Un po' In cui siamo Un po' Più sensibili In cui magari Facciamo Pensiamo E magari Siamo un pochino Più tristi Magari non riceviamo Quello che vorremmo Magari Stiamo passando Un periodo Un po' brutto Cioè io ragazze Per anni Per me Il Natale È stato orribile Perché da piccola Cioè per noi Il Natale Significava Rimanere a casa Non andare a scuola E Prendere ancora più botte Dal nostro padre Quindi per me Il Natale È sempre stato Orribile Orribile Cioè io preferivo Andare a scuola Quindi per quello Mi sono sempre fatta Un po' Qualche scrupolo Perché magari Qualcuno era triste E in queste vacanze Si trovava a casa Vedeva questa Che faceva vedere Questo Questo Quello Quell'altro Però Fatemi sapere Fatemi Veramente Ve lo chiedo Sinceramente Fatemi sapere voi Se Se vi fa piacere O se non vi fa piacere I video Dei regali di Natale Non ve lo farò Mai più Mai più Io l'ho fatto un anno E questo è il secondo anno Che lo faccio Però due anni fa Non l'ho fatto Cioè non l'ho fatto l'anno scorso E anche l'anno L'anno scorso Per intenderci Comunque Dopo questa premessa Ma ci tenevo A farla Perché Non sono ancora Completamente sicura Davvero Mi faccio A volte Sapete Quando vi Pensate a qualcosa Delle paranoie Ma non sono neanche paranoie Secondo me È così Comunque Iniziamo subito E vi faccio vedere I miei regali Di Natale Che non sono Non sono tantissimi Sono tutte cose Meravigliose Che mi piacciono Devo dire che Non ho ricevuto cose Che non mi piacciono Perché comunque Passa il Natale Faccio regali solamente A persone che mi vogliono bene C'è la mia famiglia Le amiche più strette Tutte cose così Quindi No colleghi No amici Che non ci conosciamo No cose così Vi faccio vedere Quello che ho ricevuto Finalmente Due cose di make up Una cosa meravigliosa Che Bramavo da tempo La heavy metal Heavy metals Heavy metals Che è una delle palette Le ultime Di Urban Decay Una delle ultime Che secondo me È una delle più belle Cioè il pack è fantastico Cioè vedete che È veramente Meraviglioso Super super lucido Ma anche bello Bello pesante Bello pesante E all'interno Si apre così È tutta specchiata Infatti Devo fare attenzione È così E vedete che qua Ci sono Ben Sei Quanti colori Cinque Oddio Cinque Dieci 20 colori 20 colori Tutti super super metallizzati Cioè sono qualcosa di Meraviglioso Io infatti prima Ho swatchato Lo stavo guardando E ho swatchato subito Questo Questo rame Che mi piace tantissimo Infatti vorrei registrare Un get ready with me Cioè guardate Questo rame Quanto è bombastico Cioè guardate Quanto è bello Questo rame Cioè vorrei subito Utilizzarla Questa appena arrivo In Gran Canaria La utilizzo Magari mi tolgo Anche i capelli Dalla bocca Questa non vedo l'ora Di provarla Perché deve essere Qualcosa di fenomenale Cioè 20 colori Paura Paura Poi altra cosa di make up L'ultima cosa di make up È questo popò di robe Questa palettina Da viaggio Bellissima Di Dior In edizione limitata Che si chiama Contour Color Wardrobe No No quello è francese Contour color Wardrobe Questo per gli ombretti Questa roba Ho ricevuto Ho ricevuto una cosa bellissima Per la casa Sapete Allora ultimamente Mi è presa la fissa Di sistemare un pochino Casa Vorrei infatti Appena tornare In Gran Canaria A Gran Canaria In Gran Canaria Andare a farmi un giro Tra i negozietti E prendere qualcosina Per casa E ho ricevuto Questa meraviglia Questa meraviglia Che magari la vedete Sì no Lo vedete meglio Anche di là Sono delle tazze Natalizie di Bialetti Che io utilizzerò Anche Anche In primavera Però sono delle tazze Veramente bellissime Della Bialetti Stupende Con il Lomino Pan di zenzero Questo è un regalo Per me Per Ale Guardate che belle Che sono Cioè sono due Devo rimettere quello Perché se no Poi Per portarle Poi non vorrei rischiare Che si rompano Durante il viaggio Perché tutta questa roba Che io vi faccio vedere È da riportare In Gran Canaria E poi c'è anche Il Vassoietto Cioè vedete Che roba carina Che è Proprio carino Della Bialetti Molto carino Natalizio Ma che puoi utilizzare Tutto dicembre Fino alla Befana Insomma E poi Ritirarlo fuori Quando iniziano le feste E questo kit Mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto E Spero di non romperlo Durante il viaggio Tra l'altro Poi me l'ha regalato Una persona A cui tengo molto A cui tengo molto Non dirò nomi Però Insomma Una persona che conoscete anche voi Una persona che conoscete anche voi Poi per il resto Non dirò più niente Vi farò vedere i regali così Random Poi Sempre Per questa persona Indovinate questa persona Questo regalo Questo è un regalo Che Ce lo siamo fatte insieme È un regalo Un po' che Ci fa sembrare Delle sedicenni Best friend ever Magari vi metto qua Il nostro ultimo tag Questa tazzina Ce l'ha anche L'altra parte Indovinate Ditemi voi A chi mi sto riferendo Guardate quanto è bella Questa È di Legami 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 forti Forti e indissolubili Come sono poetica Vi faccio vedere le ultime cose di beauty E poi Tutte le cose di abbigliamento Non tanta roba Poca Ma mi piace moltissimo Allora Ho ricevuto questa crema Viso Che Penso di inserire subito Nella mia routine skin care Tra l'altro Da quando sono qua a Milano La mia pelle È migliorata tantissimo Non so se ha riconosciuto Il clima di casa Però la mia pelle È migliorata tantissimo Cioè I pori Si sono chiusi Ci sono ancora Ma si sono chiusi È meno lucida È meno Ha meno Imperfezioni Eppure Se seguite i miei vlog Non è dovuto Al fatto di non introdurre schifezze Nel mio Nel mio corpo Perché Veramente Questi giorni di festa È così E comunque Ho ricevuto questa crema Di perricone Questa crema Che è una tra le più famose In assoluto È la perricone Face finishing Moisturizer Ed è con Acido alfa Lipoico È una crema Antiage Ed è una crema Che va a idratare A dare luminosità Al viso Contribuendo anche Andare ad agire Cioè contribuendo Andando ad agire Andando ad agire Sulle rughe Sui segnetti E su queste Magagnette qui Questa crema Non vedo l'ora Di provarla Si può applicare Si applica Sul viso E sul collo Sapete che io sono Fissata con il collo Cioè Collo io non me lo dimentico Mai E si deve Si può applicare Sia mattina che sera Io lo applicerò Alla mattina Perché ho Ho già visto la consistenza È una consistenza Molto molto leggera E È proprio Allora Molto Molto leggera Molto idratante Antiossidante To help your skin E va praticamente A migliorare Proprio Le rughe E le linee Sottili Del viso A minimizzare Proprio La visibilità Di queste Di queste Imperfezioni Formulata Con vitamina C Va a dare Proprio Visibilmente Più radiosità Smooth Liscio Che pelle liscia E Effetto porcellana Porcelain like Un effetto porcellana Questa non vedo l'ora Di provarla Vi faccio vedere Ma È qualcosa Di Qualcosa di Fantastico Non vedo l'ora Di provarla Questa crema Qui E Penso di Iniziare Perché adesso Appena ritornerò In Gran Canaria Rifarò Tutta la mia Skincare Altra cosa Che ho ricevuto È un'altra cosa Goduriosa Che ha questo Body scrub Al Manuka Al miele E Al Orange Blossom Manuka Miele Manuka Che è quello Australiano Se non mi sbaglio Correggetemi Perché non sono afferrata Su questa cosa E su Fiori di arancio Con fiori di arancio Miele di manuka Fiori d'arancio Scrub Corpo Con sali del marmorto E zucchero naturale No No Non lo apro Perché tanto Lo devo portare In Gran Canaria Questo Lo inizierò A utilizzare Appena finisco Il mio Ne sto utilizzando Uno naturale Buonissimo Che non mi ricordo Il marchio Oh mannaggia È un marchio Che La cremerie Della cremerine Sto utilizzando Uno che mi piace Tantissimo Poi Poi Di fashion Ho chiesto Praticamente A Babbo Natale Al mio Babbo Natale Casalingo Ho chiesto Solamente cose Per lo sport Sapete che Mi sono appassionata Tantissimo Allo sport Non vedo l'ora Di tornare In Gran Canaria Per fissarmi Su Andare nella mia palestra E spostare La mia residenza No Sto scherzando Però Con tutto quello Che mi sono pappate Tutti gli sgarri Che ho fatto A gennaio Riprendo A bomba Ho fatto anche Qualche circuito Qua mentre ero qui Sono andata in palestra Però non sono stata così Talebana Come piace essere A me E Comunque Vi lascio Qui sopra La mia rubrica Nuova O rubrica 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 Nuova Fit Viki Che ve la lascio qui Comunque E quindi ho chiesto Solamente cose sportive E ho chiesto Allora Prima cosa Mi sono arrivate Queste scarpe Stupende Stupende Cioè guardate come sono belle Sono gialle Io ne ho un paio Rosa Che sono recenti Ho un paio Blu Però che Romeo me le ha tutte Me le mangia qua Maledetto 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 Mi manca da morire Me le mangia qua E mi fa uscire Tutta la spugna Tutte le mie scarpe Sono mangiate qui E mi fa uscire Tutta la spugna Guardate come non riesce A calibrare i colori La macchina fotografica Non ce la fa Comunque Questo colore qui Ne metto una Perché se no Impazzisce Sono fantastiche Sono la Nike E sono un 41 Sono stupende Queste le vedrete sicuramente In qualche video Fit Perché Sono stupende Sono comode Sono leggerissime Vanno bene sia per correre Sia per fare workout Per fare esercizi Corpo libero Vanno bene anche Quando non c'è voglia Di vestirti E andare in giro Proprio in tuta Durante la giornata E a me capita spesso Poi mi hanno regalato Una canotta Bellissima Di Adidas Questa qui Con tessuto tecnico In tessuto tecnico Quella che la lavi subito Si asciuga subitissimo Con delle striscette Le tre striscette Di Adidas dietro Io queste qua Adesso comunque Andando Scusatemi Prude qua Non so perché Fanno i baffi No la barba Comunque Andando spesso In palestra Mi serve più cambio Più cose E quindi adesso Sto cercando di Comprare più roba Per la palestra Per Per avere più cambi Insomma E questa mi piace molto Mi piace una morbida Io non sono una A cui piace Troppo strizzato Soprattutto Cioè Finché O hai gli addominali Super scolpiti E va bene anche Nuda Però Mi piacciono anche larghe Con un top Sotto Mi piace molto E poi Ho ricevuto Questo pantaloncino Stupendo Con questi colori Meravigliosi Vedete che è stupendo Che c'è anche sotto Questo qua Perché io Allora Io ne ho tanti Di pantaloncini Così Però sono scomodi Per andare a fare Squat Che devi scendere Sono scomodi Perché ti tirano Quando devi andare a fare Magari squat Mi lanciere qua Sulle spalle Devi essere comodi Quando devi andare giù Non è che devi trovare Qualcosa che faccia resistenza Oltre ai tuoi muscoli Che stanno per cedere Lo shorts Che fa resistenza Ti viene da spararti E quindi questi qua Che sono fighissimi Anche per andare a correre Per fare magari I giorni di cardio Mi piacciono tantissimo Ed è una M Sono belli Sono veramente molto belli Anche i colori A me piacciono i colori Io mi vestirai in palestra Come arlecchino Mi piacciono un sacco i colori E questa abbinata Mi fa impazzire Con il verde acqua L'aranciato Salmonato Mi piace tantissimo Altra cosa che è caduta qua Che ho ricevuto È questa canotta Un'altra canotta Della Reebok Questa qui Da abbinare un po' Agli outfit Quando utilizzo le scarpe Fucsia Che tra l'altro Ve le avevo anche fatte vedere Perché le avevo comprate L'anno scorso da Adidas E poi ve le avevo fatte vedere Ultima cosa Che ho ricevuto È una gonna stupenda Una gonna stupenda Lunga Così Di raso Questo è raso Vero? È lunga fino alle caviglie Cioè vedete È bellissima Questa l'ho già indossata E la vedrete presto In un video La ve la farò vedere In un video Che pubblicherò Settimana prossima La vedrete indossata È stupenda Perché è sfruttabile Sia di giorno Ma anche di sera Io l'ho già messa Due volte Una volta la sera Quando eravamo invitati A cena di amici E una volta di giorno Sdramatizzandola Mi piace moltissimo Perché si riesce A adattare A tantissimi generi E a tantissimi stili Ed è Il marchio È la coccinella È la coccinella E mi piace moltissimo Questa Questa gonna Mi piace davvero Tantissimo Poi Ultima cosa Che non può mancare mai Ve lo faccio vedere Che è Qua ce la faccio Ce la faccio Ultima cosa Che non può mancare mai Non di Natale È il calendario Con i gatti Cioè io Non c'è Natale Che non abbiamo Non riceviamo Il calendario con i gatti Perché noi siamo Due gattari Io e Ale Siamo due gattari Allucinante E ragazzi Vi faccio vedere Che ce n'è No c'è Poi il primo Che è gennaio Cioè guardate Se c'è una cosa Dei gatti Che a me fa impazzire Sono le zampe Se io vedo un gatto E vedo le sue zampe Io mi innamoro Delle sue zampogne E guardate Questa zampogna Questa è una zampogna Cioè Mi viene voglia Di mangiarlo Cioè Sono stupendi Cioè guardate Quante belle Quante gattari Ci sono Tra le trucchine Ce n'è uno Che assomiglia a Romeo No Non è questo Ce n'è uno Che assomiglia a Romeo No Questo è un Romeo Da piccolo Ma io non l'ho visto Da piccolo Eccolo Questo assomiglia a Romeo Ditemi se non assomiglia Il nostro Romeo Cioè Mi mancano tantissimo I nostri gatti Comunque ragazzi Questi sono tutti i miei regali Di Natale 2017 Fatemi sapere davvero Cosa ne pensate Sulla mia premessa iniziale Ci tengo davvero tantissimo E soprattutto Così io so Come rapportarmi Il prossimo anno Che uno dice Prossimo anno Campa cavallo Però comunque I giorni Il tempo Passa davvero Molto Molto Velocemente E bisogna passarlo Veramente Come fosse l'ultimo Ogni giorno Questa è una cosa Che veramente Sapevo già Però La sento proprio mia In questi Devo dire che Dicembre è stato L'anno In cui L'anno Il mese In cui Ho capito Veramente Di non dare Per scontato Tante cose Uno da Per scontato È come se Dovesse Vivere Tutta la vita C'è tempo C'è tempo Magari Tiene musi Bronci Inutilmente Perdi il tempo Se si perde Il tempo Veramente Quando il tempo È la cosa Più preziosa Che non abbiamo Quindi Niente Con questa premessa Io vi auguro Una buona giornata Davvero E una buona settimana Non so quando pubblicherò Questo video Ma noi ci vediamo Sempre domani Con un nuovo video Sempre entro le ore Diciannove Ciao